Il grande fratello VIP7 si è concluso con molte critiche e polemiche. Ma questa volta non solo dai telespettatori sui social. Pierre Silvio Berlusconi, il numero uno di Mediaset, ha espresso la sua insoddisfazione per la volgarità e il trash del programma, e ha ordinato un cambiamento immediato di rotta. Nonostante ciò, il GF VIP tornerà il prossimo anno con l'ottava edizione e il conduttore Alfonso Signorini sarà confermato, ma con il compito di organizzare trame differenti e meno trash. Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e opinionista del programma, sembra che non farà più parte del cast. Giulia Salemi potrebbe essere la sua sostituta. Avendo già esperienza sia come concorrente che come commentatrice social del programma.